Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui comincerò una serie che spero che sia giornaliera e se riuscirò a tenere il ritmo in cui aprirò il calendario dell'avvento pop di Nightmare Before Christmas sono 24 personaggi ovviamente tutti del cartone o film Nightmare Before Christmas e poi per ognuno cercherò di descrivere il personaggio. Le caselle sono in ordine molto semplice quindi non ce ne è anche bisogno di cercare e adesso cominciamo ad aprire ok ecco qua allora da qui non riesco a capire che personaggio sia ve lo farò ve lo mostrerò direttamente già aperto e vi descriverò quindi il personaggio ed ecco qui il personaggio che abbiamo trovato che successivamente vi andrò a descrivere questo personaggio è ispirato al Jack O'Lanter a volte italianizzato in Jack la lanterna la storia di questa creatura è legata alla creazione delle note zucche di Halloween e si ispira alla leggenda di un uomo che aveva quasi perso la sua anima con il diavolo ma che grazie a uno stratagemma riuscì a sfuggirli in seguito quando morirà però sarà rifiutato sia dal paradiso che dall'inferno e sarà condannato a vagare senza tregua per il mondo potete osservare questo personaggio all'inizio del film ed è uno spaventapasseri all'inizio del film ed è un film di 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 un film di